Allora, buongiorno a tutti, siamo tornati online sulla piattaforma di ADN Kronos e sul giornale online true-news.it per questa lunga giornata di approfondimento qui alle stelline per la rassegna di Rezione Nord con le parole chiave molto importanti, tempo di dignità e di pace. Adesso abbiamo un panel molto interessante, la sicurezza delle nostre città, che introdurrà e modererà Serena Coppetti del giornale. Però prima di lasciare la parola ai nostri ospiti, tra cui voglio subito salutare il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, l'assessore Comunale della Sicurezza Marco Granelli, vorrei lasciare la parola per un saluto e un'introduzione al questore di Milano. Grazie, mi sento particolarmente a mio agio parlare prima dell'approfondimento, perché così se dico delle cose generiche non faccio parte di coloro i quali approfondiranno i temi e quindi rimango sulle generali. Anzitutto vi auguro buon lavoro e per quello che mi sarà possibile seguirò con interesse ciò che verrà detto. La materia sicurezza, prima stavo commentando con il sottosegretario che saluto rispettosamente, l'amico Marco. La materia della sicurezza è una materia talmente generale, talmente trattata oggi come oggi, che diventa difficile chi ha la responsabilità di esporsi o di manifestare, perché qualunque parola si dica su questo argomento può essere contraddetta il giorno dopo. E quindi iniziamo a fare un esercizio estremamente difensivo con le nostre parole, perché sappiamo che affermare che un luogo sarà indiscutibilmente sicuro è opinabile. Quello che dobbiamo e che cerchiamo di fare quotidianamente è di essere credibili per quanto concerne il nostro impegno. E questo qui deve essere fuori discussione. Chiaramente a me compete come autorità tecnica di pubblica sicurezza su Milano di avere la responsabilità di Milano e della sua città metropolitana. Dico sempre che ci attacchiamo ai dati, ma al tempo stesso, una cosa che dico sempre, quando si declinano i dati non si confutano le sensazioni delle persone, perché il dato potrebbe essere irrispettoso di quell'unico episodio che tocca alla sensibilità di una persona. E quindi chi presidia la sicurezza non può avere interesse per tutti meno che uno. Il nostro interesse è totalizzante per tutti quanti. Quindi io quello che vorrei che fosse avvertito è che noi abbiamo interesse anche per il caso zero, per il caso uno. E su questo dedichiamo ogni attenzione. Però la declinazione del dato serve un attimino per rimettere i fatti al loro posto. Se se ne vuole parlare all'interno di contesti anche tecnici, perché altrimenti si rischia poi di avere una visione generalizzata di insicurezza, il che non aiuta una lettura corretta e non aiuta anche un atteggiamento proattivo da parte di tutti, perché la sicurezza è un patrimonio di carattere collettivo, che è a presidio degli organi tecnici che siamo noi. Ma al tempo stesso bisogna innescare dei meccanismi virtuosi in cui noi facciamo la parte, non so se del leone o di quale altro animale, auspicabilmente efficiente. Ma tutti quanti devono riuscire ad esercitare la loro parte. In questo mi sento di dire, sono ormai un anno e 4-5 mesi che sono in questa meravigliosa città, mi sento di dire che c'è un rapporto interistituzionale bellissimo. C'è una città esigente, il che per me rappresenta soltanto uno stimolo, quello di avere degli interlocutori esigenti che richiamano la nostra attenzione e lo fanno sia singolarmente che attraverso quelli che sono i portatori di interessi. Recentemente abbiamo avuto un incontro con i presidenti di municipio per fare in modo che la nostra attenzione sia un'attenzione che parta da dei dati oggettivi. Uno dei temi tanto discussi, anche perché all'inizio faceva quasi figo, dire la percezione di sicurezza, dice questo sta dicendo una cosa molto molto importante e rimane tale, quello che ci tengo a dire è che fa parte di uno degli indicatori per noi. Al tempo stesso a me piace declinare una mia piccola equazione sulla quale non metto il copyright che per me la percezione di sicurezza si tramuta in aspettativa di sicurezza. Perché nel momento in cui questa percezione è alimentata da una serie di fattori, sono i più vari, se noi ci mettessimo a parlare con una persona per dire per quale motivo tu ti percepisci in sicuro, avremmo tanti elementi da prendere in considerazione. E quindi per chi presidia la sicurezza, come me, deve riuscire a dare densità alla sicurezza, perché questa è un'altra parola molto importante, soprattutto quando le città si trasformano. E Milano è una città in forte trasformazione, pensiamo al suo policentrismo, pensiamo ai suoi mezzi di trasporto, noi stiamo dedicando un'attenzione peculiare ai mezzi di trasporto. La città di Milano fa circa 25.000 corse, muove al giorno circa 500.000 persone, quindi noi muoviamo città e quindi dobbiamo riuscire a dare attenzione a tutti. Per cui queste persone hanno un'aspettativa, che è il frutto della loro percezione, anche, bene. Però se c'è aspettativa, io l'unica cosa che posso dire è che noi dobbiamo rispondere a questa aspettativa. La nostra è sicuramente un'obbligazione auspicabilmente di risultato, però purtroppo chi fa il mio lavoro un gol lo prende quasi sempre. Per questo vorrei sempre ricordare che noi lavoriamo, la sicurezza è in un... Mi viene da pensare a quel cantante che cercava un centro di gravità permanente, no? Questo centro di gravità tu lo devi trovare tra la fase preventiva e la fase repressiva. Ma perché? Perché sulla fase repressiva siamo molto molto forti, mi sento di dire. La polizia di Stato, solo la polizia di Stato a Milano ha arrestato quasi 4.000 persone lo scorso anno, il che significa quasi 11 persone al giorno. C'è un indice di recidività molto importante, ma non vi dico tutto perché se no non venite alla festa della polizia il giorno 12 di aprile. Anche quello sarà un indicatore interessante per capire quali sono poi i fattori tangenti che vanno ad incidere sulla sicurezza e di cui bisogna parlare in maniera tecnica e non di pancia. Ovviamente se se ne vuole parlare di pancia è giusto che si faccia. Io sono un organo tecnico e devo declinare tecnicamente quelli che sono i temi. Per quanto riguarda l'aspettativa noi siamo qui a presidiare, siamo qui ad essere presenti, abbiamo una presenza sul territorio importantissima. Tutte le risorse che il Ministero dell'Interno ci dedica vengono destinate al territorio. Noi abbiamo anche, siamo molto accountable come dicono quelli che parlano bene, perché dobbiamo, la sala operativa di Milano, per esempio la centrale operativa di Milano è certificata ISO 9001 e risponde a tutti gli standard europei. Quindi noi non possiamo nemmeno dare numeri di fantasia. Quindi la nostra presenza sul territorio che si traduce in 120 pattuglie senza considerare di IGOS mobile specialità è una presenza importante sull'arco delle 24 ore. Però rischio, se parlo ancora, di farvi sentire sicuri. Invece io vorrei lasciare un senso di insicurezza per farvi capire che ho molto da fare e che devo riuscire a compensare questo lec che ci sarà sempre. Vi auguro buon lavoro. Grazie. Grazie a Dottor Giuseppe Petronzi, costore di Milano. Grazie mille e a te. Grazie. Allora, ringrazio il questore che ci ha dato parecchi stimoli, insomma, su cui cominciare la nostra discussione. E vorrei partire presentando un po' tutti gli ospiti che sono qui presenti, che come dice appunto anche la manifestazione, sono persone che sicuramente non è che hanno qualcosa da dire, ma hanno molto da dire e credo anche molto da fare. e appunto c'è il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Nicola Molteni, l'assessore alla sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, e sono con noi tre rappresentanti di aziende che hanno a che fare a vari livelli con la sicurezza. Nils Fazzini, amministratore delegato di CITEL, Giuseppe Calabrese, amministratore delegato di Secursat, e Nicola Mugnato, che è direttore generale di GIALA. Dunque, partirei subito, seguendo l'onda anche emotiva del questore, con il sottosegretario Molteni, al quale vorrei fare una riflessione proprio sulla base degli ultimi fatti, insomma, che sono accaduti il Ministro Lamorgese proprio negli scorsi settimane. Ha risposto a una question time alla Camera, proprio sulla sicurezza, dove ha annunciato che avrebbe diminuito gli uomini dell'operazione Strade Sicure, di circa un paio di migliaia, mi pare di ricordare. Nello stesso tempo, però, è vero che se il numero dei reati totali è diminuito, sappiamo che anche a Milano, poi ne parleremo più nel dettaglio con l'assessore, sono aumentati un certo numero di reati, che sono proprio i reati di strada, quindi le rapine di strada, e le violenze sessuali. Quindi volevo sapere su questo qual è la sua idea e qual è, secondo lei, il bisogno di sicurezza delle nostre città. Io innanzitutto volevo ringraziare e ringrazio il questore di Milano, che ho avuto l'occasione di conoscere e apprezzare quando era questore di Trieste, che è una garanzia importante, insieme al prefetto e a tutte le autorità locali di pubblica sicurezza, importante per una città metropolitana, importante come può essere Milano, una città in sviluppo e come tutte le città che hanno una prospettiva di sviluppo, evidentemente hanno sul tema della sicurezza particolari sensibilità e particolari sollecitazioni. La sicurezza è, da un lato, un servizio, che deve ovviamente essere garantito, e dall'altro lato un bene che deve ovviamente essere difeso, deve essere protetto. La sicurezza oggi viene declinata in vari modi, la sicurezza sanitaria, la sicurezza energetica, la sicurezza economica, la sicurezza sociale e ovviamente la sicurezza intesa come controllo del territorio, come prevenzione, come contrasto alle varie forme di criminalità, microcriminalità, la criminalità organizzata. Quindi io credo che innanzitutto il compito della politica, delle istituzioni, a livello centrale, a livello locale, saluto ovviamente e ringrazio l'assessore Granelli, è quello di investire. L'investimento in sicurezza è un investimento per il futuro del paese, per il futuro dei giovani. Sicurezza vuol dire libertà. Perché noi dobbiamo garantire sicurezza? Per garantire libertà. E libertà vuol dire sicurezza. Garantire sicurezza per avere maggiore vivibilità, per avere quel senso di comunità, anche in una grande città metropolitana come può essere Milano, che garantisce quel senso di convivenza civile, quel senso di appartenenza, che è fondamentale per rendere territori importanti, come quello di Milano, territori che sono attraenti e attraibili da un punto di vista anche economico e della vivibilità da parte dei cittadini. Io credo che la sicurezza non sia né di destra né di sinistra. Di sicurezza si parla molto, di sicurezza si fa anche tanta propaganda, la sicurezza è un tema politico ovviamente particolarmente appetibile, la sicurezza deve essere garantita, la sicurezza deve essere difesa, la sicurezza deve essere protetta. Io ho avuto per due volte la fortuna, l'opportunità di stare al Ministero dell'Interno come sottosegretario. Il Ministero dell'Interno è il cuore della democrazia del Paese, è il cuore delle libertà, il parlo di libertà al plurale, è il cuore dei diritti, è il cuore della sicurezza, è il cuore della legalità e quindi chi sta al Ministero dell'Interno deve avere un approccio razionale, equilibrato rispetto ai fenomeni di illegalità che si verificano sul territorio. Se immaginiamo la sicurezza come un tavolo, io vedo quattro gambe che tengono in piedi il tavolo della sicurezza, quattro pilastri. Il ruolo dello Stato, io credo che in primis tocchi allo Stato garantire sicurezza, e lo Stato garantisce sicurezza in due modi. Primo, garantendo e difendendo i presidi di legalità presenti sul territorio. Io quando sono arrivato al Ministro dell'Interno nel 2018, il Ministro era Matteo Salvini, noi ci siamo trovati un piano di razionalizzazione, il termine razionalizzazione era in modo così elegante e gentile, per dire un piano di chiusura di alcuni presidi di sicurezza sul territorio, con l'allora vicecapo della Polizia, che tra l'altro avete anche conosciuto qua a Milano come bravissimo questore, che io ho particolarmente apprezzato e ho particolarmente stimato Luigi Savina, abbiamo deciso di sospendere quel piano di razionalizzazione, perché voleva dire togliere dei presidi di sicurezza sul territorio, e invece dare una nuova organizzazione, che poi è quella che avrà una ricaduta sulle quattro grandi città metropolitane, compresa Milano, con dei presidi di sicurezza collocati esattamente in prossimità dei municipi, proprio per avere una domanda e una risposta esattamente coerente con quelli che sono i bisogni dei cittadini, noi abbiamo sospeso un piano di razionalizzazione, perché io credo che nel momento in cui si toglie un presidio di sicurezza sul territorio, si dà un'immagine negativa, si dà un'immagine di debolezza da parte dello Stato, lo Stato che fa un passo indietro rispetto alla criminalità, e invece noi dobbiamo riaffermare la presenza dello Stato. Si fa sicurezza potenziando e implementando gli organici delle forze di polizia, come ha annunciato anche per Milano il ministro nell'ultima visita che ha fatto, credo a fine gennaio, noi quest'anno assegniamo tra febbraio e gennaio circa 4.000 uomini delle forze di polizia alle varie questure del nostro paese, che non sono 4.000 assunzioni in più, che non sono 4.000 agenti in più, ma che purtroppo andranno anche a compensare due grandi fenomeni, che toccano anche in modo particolare la nostra polizia, il fenomeno delle carenze degli organici e il fenomeno dei pensionamenti. Noi abbiamo un dato drammatico soprattutto per quanto riguarda la polizia di Stato, la polizia di Stato conta circa 97-98.000 uomini, prima della legge Madia del 2017 la dotazione organica della polizia di Stato era 117.000, la legge Madia ha tagliato 10.000 uomini, la dotazione complessiva della polizia di Stato è 107-108.000. Nell'ultima legge di bilancio abbiamo alzato 0,07% le dotazioni organiche, quindi vuol dire che noi dobbiamo fare, dopo la stagione del blocco del turnover, 14, 15 e 16, noi abbiamo la necessità e il dovere di garantire nuove assunzioni straordinarie, proprio per sopperire alle carenze da un lato e ai pensionamenti dall'altro lato. E da questo punto di vista, da Minniti in poi, Minniti, Salvini, Lamorghesi, i piani assunzionali sono piani che hanno visto la politica impegnata e attesa. Si fa sicurezza, cito una delle altre gambe che tengono in piedi il tema della sicurezza, investendo sulla nuova declinazione della pubblica sicurezza, che tocca e investe di coprotagonismo anche i territori, le autonomie locali, i sindaci, le polizie locali, l'assessore, che è il tema della sicurezza urbana, la sicurezza partecipata, la sicurezza integrata, la collaborazione sempre più stringente in tre forze, tra le polizie, ordinamento statale, polizia, carabinieri, guardie di finanza, e le polizie locali. La polizia locale di oggi, io ho fatto l'amministratore locale per tanti anni, la polizia locale di oggi, è inimmaginabile pensare che possa essere equiparata la polizia locale della legge istitutiva dell'ordinamento delle polizie locali dell'86, la 65 dell'86, perché la polizia locale di oggi, non fa soltanto multe o da contravvenzioni, la polizia locale di oggi diventa un interlocutore fondamentale, strategico in quel rapporto di interforza con le forze di polizia locale nazionali per poter garantire sicurezza sul territorio. All'interno di questo quadro organico, sistematico, di maggiori esigenze di sicurezza da parte dei cittadini, perché è severo che la delittuosità, tutti gli indici danno il calo della delittuosità, soprattutto su alcuni reati relatori, anche per quanto riguarda Milano, soprattutto sui furti, diminuiscono in maniera sensibile, ma non solo a Milano, in tutta Italia la delittuosità non comparata rispetto al 2020, quando abbiamo chiuso i cittadini in casa, quindi il 2020 non è termine di paragone, ma rispetto al 2018, i furti nelle varie declinazioni, furti nell'abitazione, esercizi commerciali, furti con dastezza, furti con scasso, sono in netta diminuzione, grazie alla sinergia, grazie alla politica, grazie al lavoro degli operatori sul territorio. A Milano abbiamo questi due dati, che evidentemente sono un campanello d'allarme, sia per quanto riguarda le violenze sessuali, il 21 rispetto al 19, sia per quanto riguarda le rapine del 21 rispetto al 19, i militari di strade sicure, che a Milano non vengono toccati, se 111 erano, se 111 rimangono, mi porta però a lanciare un allarme, l'ho lanciato pubblicamente, lo lancio alla politica, lo lancio dal mio ruolo di governo, perché credo che in un quadro organico, complessivo di attività e di controllo sul territorio, anche i militari di strade sicure, svolgono un ruolo di presenza, di deterrenza importante. La norma che si è votata nella legge di bilancio del 2020, governo Conte 2, io ero all'opposizione, in cui si è previsto di ridurre di mille unità i militari nel 2021, taglio già fatto, eravamo a 7.000, siamo scesi a 6.000, mille unità a giugno del 2022, quindi prossimamente, la decisione di non prorogare i 753 militari del contingente straordinario legati all'emergenza Covid, essendo cessata l'emergenza Covid, si è ritenuto di non prorogare i 753 legati all'emergenza Covid, ma potevano tranquillamente essere prorogati per svolgere, ripeto, quell'attività importante e strategica, pensiamo nell'attività di vigilanza fuori dalle stazioni, non solo la stazione centrale, ma anche nelle piccole realtà, ad esempio è stata tagliata a Monza, il contingente di strade sicure a Monza di fronte alla stazione di Monza ha svolto un ruolo di deterrenza straordinario, credo che sia una scelta sbagliata, lo dico, da membro del governo, credo che la politica si debba interrogare sia in un momento come questo, dove la domanda di sicurezza emerge, dove a fronte di un calo dei delitti e dei reati, se noi chiediamo ai singoli cittadini vi sentite più sicuri o meno sicuri? La percezione di insicurezza dettata da alcuni fattori, pensiamo al tema delle baby gang, pensiamo al tema dello spaccio, dove bisogna andare ad agire non solo sull'offerta, ma in modo particolare sulla domanda, pensiamo al tema della mala movida, pensiamo al tema delle occupazioni abusive, pensiamo al tema dell'immigrazione, c'è un dato su Milano che va attentamente analizzato, ci sono dei dati per quanto riguarda l'incidenza della criminalità straniera rispetto ai soggetti arrestati o denunciati, dove sul 2022, ma anche sul 2021, l'incidenza straniera è superiore al 50%, sul 2021, per quanto riguarda la città di Milano, arriviamo al 67%, quindi vuol dire che il tema di gestione dell'immigrazione, sentivo prima il dibattito precedente sul tema dell'integrazione, che è importante, che è fondamentale, dove probabilmente l'integrazione nel nostro paese non è stata fatta, e il tema della gestione dell'immigrazione e di una cattiva integrazione va a incidere in maniera drammatica anche sul fenomeno delle baby gang, cioè della devianza e del disagio giovanile che diventa purtroppo violenza e criminalità giovanile, anche legato ovviamente alle conseguenze determinate dal Covid, portano a dover fare inevitabilmente alcune riflessioni che una gestione dell'immigrazione diventa necessaria, diventa doverosa, perché? Perché se l'8,7% di cittadini stranieri presenti nel nostro paese incide per oltre il 30% sui fenomeni criminali, vuol dire che noi, oltre a contrastare una criminalità autoctona italiana che c'è, dobbiamo anche contrastare una criminalità straniera. Quindi le divise in strada sono necessarie, quindi le divise militari dell'operazione strade sicure introdotti nel 2008 sono uno strumento aggiuntivo, complementare, accessorio per dare una compiuta e coesa, insieme all'attività dello Stato e all'attività delle amministrazioni locali, dico anche la vigilanza privata, anche gli istituti di vigilanza privata, i mille occhi per la città, il progetto mille occhi per la città che tante realtà hanno sviluppato diventano uno strumento, io dico indispensabile, non negoziabile, per poter alzare il livello di sicurezza sui nostri territori e anche in una città ovviamente importante come può essere una città metropolitana come Milano. Ecco perché i fenomeni poi delle città sono un po' cambiate, sono fenomeni proprio di micro criminalità, di baby gang, di queste situazioni che su Milano, insomma anche negli ultimi tempi, abbiamo visto che è stata un po' al centro del discorso, i reati appunto come sottolineava, totali, sono diminuiti, però c'è un 14% in più di reati di strada, credo sia il dato più alto, mi sembrava di ricordare, dal 2017. Ecco, ci sono nuove urgenze a Milano che vanno affrontate, Assessore, sulla base anche di quello che ha detto il dottor Molteni. Certo, come diceva il sottosegretario e anche nell'analisi dei dati che devo dire all'interno di quella sinergia a cui faceva riferimento con i prefetti, questore appunto, le autorità di pubblica sicurezza, abbiamo un quadro abbastanza chiaro che è anche stato illustrato dal prefetto, dal questore recentemente, che come ci annunciava il questore anche nella prossima festa della polizia avremo ulteriori informazioni, ma è importante capire come dentro questo quadro di diminuzione abbiamo queste campagne d'allarme e c'è questo tema della rapina in strada, dei reati legati all'uso degli stupefacenti e poi al tema della violenza di genere che in realtà lì è più nelle relazioni ordinarie. Però sono alcuni aspetti che ci segnalano, ci pongono le campagne d'allarme, allora chi amministra le città, chi appunto sovrintende tutto il tema della sicurezza deve guardare con grande attenzione per riuscire a mettere i cittadini in una condizione di maggiore possibilità appunto di svolgere le proprie funzioni, di vivere in un ambiente utile a fare, a svolgere un lavoro, ad avere qualità della vita. Sapendo che le grandi città stanno diventando sempre più attrattive, dentro questa attrazione c'è la buona attrazione di capitali, lavoro, giovani, studenti, eccetera, ma purtroppo l'abbiamo visto anche in Milano c'è anche l'attrazione da chi deve poi, chi vuole svolgere attività illegale. Quindi dobbiamo lavorare in questo contesto. Dove appunto abbiamo questo aspetto della strada, questo aspetto dell'attrattività e cioè i luoghi sono sempre di più i luoghi dove c'è più gente, dove la gente si trova e dove il reato predatorio diventa più proficchio, in qualche modo più utile da chi vuole svolgere questa attività. Ecco, adesso coinvolge anche zone centrali, no? Appunto, questa attività se uno inevitabilmente pensando a rapine in strada pensava qualche quartiere periferico della nostra città nella zona buia o di notte, eccetera, oggi i reati sono diffusi nelle zone più frequentate della movida o comunque dell'attrazione perché appunto vanno a concentrarsi dove c'è più gente, dove c'è più attrazione e sia chi commette reato o chi lo subisce molto spesso sono gente che è attratta in quel luogo ma non vive ordinariamente in quel luogo. Questo vuol dire che bisogna riposizionare le politiche e in questo senso come amministrazione con appunto i soggetti che si occupano di questo stiamo lavorando per intanto chiediamo che sia importante avere una maggiore presidio del territorio, presenza sul territorio che decliniamo e vorremmo sempre più declinare come una presenza di uomini e donne delle forze dell'Od delle polizie locali dentro la sinergia a cui si faceva prima riferimento e di tecnologia perché queste sono le due leve che noi chiediamo insieme il coordinamento stretto a cui si faceva riferimento che è essenziale e devo dire di cui ringrazio il prefettura questura le forze dell'Od anche la sottosegretaria perché devo dire che c'è oggi abbiamo professionalità e proprio anche questa capacità di lavorare insieme che non è automatica e devo dire è molto utile presidio del territorio noi abbiamo avuto un aumento di personali per polizia e carabinieri che sono già in strada e che ci hanno permesso in ambito appunto di comitato di sicurezza pubblica di realizzare alcune azioni proprio su quelle zone che si dicevano azioni coordinate che stanno dando dei frutti come arresti e anche come percezione se oggi si gira a differenza di un qualche mese fa alcune zone di fine settimana si vede più presenza di forze dell'ordine polizia locale e questo è un segno di come abbiamo incominciato e le forze dell'ordine hanno cominciato ad utilizzare le nuove risorse messe in campo messe in strada a fianco dei cittadini per andare a colpire ad arrestare e quindi a fare quell'azione fondamentale come comune abbiamo deciso come era un po' segno elettorale del sindaco Giuseppe Sala di aumentare la dotazione di polizia locale soprattutto non solo per aumentare l'organico noi passeremo da un organico di 2812 agenti a 3350 quindi un aumento di organico di 500 unità per i quali dovremmo assumere in 4 anni 900 vigili perché poi come anche per le forze dell'ordine c'è il pensionamento tutta questa operazione quindi mi rendo perfettamente conto della fatica noi per riuscire a fare questo aumento di 500 dobbiamo fare assunzioni di 900 persone e siamo partiti non è un obiettivo ma abbiamo i primi due concorsi in essere quello per gli ufficiali che ha già fatto tutte le prove stiamo facendo le visite mediche e quindi a breve inizieranno la formazione i nuovi assunti i 30 ne ho assunti ufficiali della polizia locale e invece per gli agenti si stanno facendo sono state effettuate le prove fisiche che abbiamo introdotto anche per cercare di avere agenti più giovani più pressanti perché poi l'attività va fatta in strada va fatta di notte va fatta di sera e quindi non è solo un tema di numero ma è anche di capacità organizzative ad avere vigili che possono lavorare più in strada e quindi più giovani e questa operazione voi pensate in un corpo appunto di tendente a 3350 persone cambiarne 900 vuol dire riuscire a inserire energia nuova giovani eccetera qualche piccola polemica perché abbiamo messo le prove fisiche eccetera però è chiaro se uno vuole fare vigile a Milano deve essere capace deve essere giovane deve sapere che andrà a lavorare in strada che andrà a lavorare in strada di sera di notte perché questo è il suo compito e quindi anche nella selezione cerchiamo di andare a mettere questo tipo di azione i primi 240 saranno assunti quest'anno la prima parte a luglio un'altra a novembre in modo da già avere un miglioramento nelle strade quindi più uomini e donne sia appunto delle forze dell'ordine e della polizia locale certamente il contingente di strade sicure è importante a Milano rimarrà uguale io in generale comunque dico anche i militari sono un ausilio ed siamo ben lieti di averli anche perché presidiano alcuni luoghi lasciando più spazio e permettendo invece a chi fa più indagini arresti eccetera di poter svolgere la propria funzione però ecco avendo dei soldi io chiedo al governo di usarli per assumere poliziotti carabinieri la gente la guardia di finanza cioè gente che ha il compito preciso della sicurezza nelle nostre nelle nostre città l'altro aspetto è la tecnologia noi abbiamo a Milano 2000 telecamere quando abbiamo dovuto affrontare Expo abbiamo costruito questo sistema unitario di collegamento di tutte le telecamere mettendo a disposizione tutte le centrali operative e quindi le telecamere messe nel Comune Milano non le vede solo la polizia locale ma sono visibili in temporale anche manovrabili da tutte le forze del Lode e penso che questo sia giusto doveroso perché vuol dire permettere ma non solo grazie appunto anche a una scelta di prefettura abbiamo in corso questo progetto che si chiama Anagrafe delle telecamere che permette oggi di avere una piattaforma di 5000 telecamere dove quindi oltre alle 2000 del Comune Milano ce ne sono 3000 private abbiamo fatto accordi oltre che con le strutture di mobilità la TM Ferrovie Nord ma anche con il circuito delle banche con il circuito della grande distribuzione cioè privati che mettono le telecamere in questa Anagrafe non sono direttamente visibili ma permettono alle forze dell'ordine di sapere subito dove sono dislocate con la tecnologia di andare a individuare subito che è il soggetto di riferimento e quindi poter lavorare in questo io penso che qui ci sia una grande frontiera cioè di riuscire a investire in tecnologia noi adesso abbiamo approvato in fine novembre un investimento di 3 milioni di euro su questo tema di cui una quota 700 mila euro viene dai fondi nazionali e andremo avanti nel nuovo bilancio a mettere altre risorse perché dobbiamo avere tecnologie e anche nelle telecamere una parte di queste risorse si servono per andare a sostituire Milano fortunatamente ha avuto un patrimonio di 2 mila telecamere è stato costruito negli anni e le prime purtroppo sono vetuste insomma hanno una tecnologia che non soddisfa le esigenze quindi abbiamo bisogno delle ultime tecnologie con il contributo di chi se ne intende perché di riuscire ad avere anche telecamere immagini sistemi di videosorveglianza sempre più specializzati ecco a proposito di questo allora vorrei subito coinvolgere il dottor Calabrese che quando insomma abbiamo parlato di telecamere di come con i privati si gestisce questa digitalizzazione lui mi diceva appunto che non servono mille telecamere in più ma servono telecamere intelligenti quindi intanto grazie intanto dopo queste autorevoli affermazioni e introduzione mi viene da pensare immediatamente che la risposta non è univoca e che la sicurezza è un processo diffuso trasversale nelle organizzazioni e quindi che induce a fare delle riflessioni sulla gestione del rischio sulla percezione della sicurezza in quest'ora in quest'ora ha introdotto il tema perché arriveremo a azioni di mitigazione chi si occupa di sicurezza pensa sempre a azioni di mitigazione e non di eliminazione definitiva del rischio o di una sicurezza a 360 gradi coperta noi ci occupiamo di modelli organizzativi di gestione del rischio organizzativi e tecnologici di gestione del rischio lavoriamo prevalentemente nel settore privato quindi i nostri interlocutori sono aziende che stanno i mercati competitivi e che hanno necessità di modificare i propri modelli standardizzando ottimizzando le soluzioni e da questo punto di vista diciamo che ci siamo allenati su un terreno di gioco che è quello di creare valore perché la sicurezza viene vista molto spesso come un costo se non succede nulla ci si chiede a cosa quali sono i benefici dei costi in sicurezza se succede qualcosa ci si pone sempre lo stesso tema quindi noi avendo fatto un'esperienza come Secursat nel mondo privato quindi nel mondo competitivo abbiamo un'esperienza che è quella di razionalizzare l'utilizzo delle tecnologie per cercare di far sì che le tecnologie siano degli elementi di anticipazione di eventi di analisi le telecamere sono sempre più oggi delle telecamere intelligenti delle telecamere che ci aiutano a comprendere degli scenari da questo punto di vista se pensiamo ad esempio all'esperienza del mondo bancario che in questi ultimi otto anni è passato da 40.000 sportelli a 20.000 sportelli con una difficoltà con un'assenza di persone non andiamo più nessuno in banca si è ridotta in maniera significativa anche la nostra come cittadini la nostra frequenza nelle agenzie bancarie gli eventi criminosi sono completamente spariti gli unici eventi che sono rimasti sono quelli attacchi ai bancomat che sono l'unico luogo dove il denaro viene custodito ecco da questo punto di vista per esempio volendo declinare un'esperienza fatta in un contesto privato importante in grande cambiamento con scenari economici in grande cambiamento con crisi economica la telecamera all'esterno del bancomat è diventata una telecamera intelligente che anticipa a quei 4-5 minuti in alcune fasce orarie definite il verificarsi di qualche movimento all'esterno e genera un alert nei security operation center dove sono monitorate queste telecamere cercando di creare delle interazioni da questo punto di vista noi abbiamo realizzato un'app tecnologico a Milano dove gestiamo circa 6.000 flussi video e li gestiamo in una chiave non di visualizzazione delle immagini video ma di interazione con esse di ricezione da parte delle telecamere di alert di segnalazioni o di cambiamenti di scenario che possono generare un'attenzione da questo punto di vista quindi sicuramente la risposta non è univoca ma certamente una risposta quantitativa oltre che qualitativa sui modelli organizzativi sui modelli di gestione dei processi tecnologici e con l'esperienza del mondo privato questo ce l'ha insegnato il mondo retail che è un mondo anche che noi conosciamo bene che rappresenta un nostro interlocutore tradizionale nell'ambito della gestione dei decenni di rischio con lo sviluppo della vendita online ha modificato il suo parametro di valutazione del rischio e quindi ha modificato anche le modalità attraverso le quali utilizzare la tecnologia per ottenere informazioni per ottenere analisi comportamentali senza andare poi a interloquire o interagire con quelli che sono chiaramente i limiti posti dalla regolamentazione istituzionale ma cercando di avere attraverso la tecnologia quelle informazioni che aiutano a comprendere anche modelli organizzativi interni anche modelli organizzativi di gestione del rischio Milano ieri sera è stato centro di Milano c'è stato un piccolo principio di incendio un incendio che ha chiaramente caratterizzato degli store del retail che stamattina sono chiusi per loro è un rischio finanziario ma sempre ha un impatto complessivo su una gestione del rischio complessivo che non era soltanto la merce nello store ma era anche il fatto che stamattina c'è da ripartire da riaprire con tutta una serie di conseguenze allora la domanda che l'interlocutore privato in un contesto economico competitivo dove la necessità è quella di razionalizzare costi e investimenti c'è un'attenzione chiaramente alla quantità della tecnologia alla quantità delle risorse che dedichiamo per per la gestione della tecnologia ma c'è anche un'attenzione alla qualità cioè a cosa facciamo di questa tecnologia come la utilizziamo e come possiamo realizzare delle interazioni nella gestione tecnologica e questo poteva essere declinato per esempio nel pubblico diceva anche in situazioni in cui ci possono essere delle manifestazioni o delle quindi per fare un esempio concreto chiaramente oggi non tutti i dati sono necessari ma solo alcuni non tutte le immagini hanno necessità di avere interazioni intelligenti ma chiaramente dare in alcuni contesti in alcuni scenari un'intelligenza della telecamera significa anche dare la possibilità a chi poi deve quotidianamente diciamo mettere insieme i pezzi di una complessità e Milano sicuramente da questo punto di vista è una città in continuo cambiamento dove ogni settimana gli scenari cambiano le esigenze cambiano le istanze cambiano e quindi è sicuramente la città guida dei cambiamenti che poi abbiamo visto anche con gli episodi di questi giorni poi si verificano in altri contesti ecco la tecnologia a servizio dei cittadini sempre di più ma ultimamente c'è stato un grosso dibattito sull'utilizzo del taser adesso anche a Milano il sindaco Sala ha detto che è possibile utilizzarlo anche se con prudenza e dottor Molteni è già una cosa che comunque funziona credo in 18 città mi pare come sta andando l'esperimento e Assessore su Milano come lo percepiamo questa nuovità ne parlavamo prima con il questore di Milano Milano è una di quelle città anzi è stata la prima città insieme a Roma e altre sette città a dare avvio non solo alla sperimentazione del 2018 io ero sottosegretario con Salvini ministro dell'interno quando il 4 luglio del 2018 venne dato l'avvio alla sperimentazione del taser ma il 14 marzo nelle 14 città metropolitane più alte 4 città Caserta Brindisi Reggio Emilia e Padova sono le prime 18 città nelle quali l'utilizzo effettivo e a pieno regime del taser ha dato risultati importanti io direi straordinari perché se noi vogliamo garantire sicurezza ai cittadini la precondizione per garantire sicurezza ai cittadini è quella di mettere in sicurezza coloro i quali la sicurezza la devono garantire perché è uno strumento di difesa è un'arma non letale è uno strumento di difesa e non di offesa è uno strumento di sicurezza e non di violenza è uno strumento che nella sperimentazione che è stata poi prorogata per ben tre volte proprio per avere la massima certificazione della funzionalità del mezzo e nei primi casi di applicazione Milano Roma Napoli Torino si è verificato che cosa che la funzionalità del taser sta esattamente nell'effetto deterrente nella stragrande maggioranza dei casi nel 90% dei casi il taser non va nemmeno utilizzato i due dardi che partono a 7 metri che danno questa famosa scossa elettrica per 5 secondi che inibiscono i movimenti muscolari nella stragrande maggioranza dei casi questa fase non va nemmeno applicata basta semplicemente l'intimazione basta mostrarlo o basta il cosiddetto warming act cioè la scintilla dell'arco volcataico per far desistere colui il quale si pone in una situazione di pericolo e di rischio nei confronti delle forze di polizia credo che sia uno strumento importante uno strumento indispensabile viene utilizzato principalmente per chi fa attività di controllo del territorio per chi fa attività di prevenzione quindi pensiamo alle volanti della polizia o alle radiomobili per quanto riguarda i carabinieri credo che sia una grande conquista di civiltà una grande conquista di sicurezza e mi permetto di dire perché i detrattori del taser ci sono anche le cose che proprio per come è nato il taser io ero parlamentare già nel 2014 quando il taser viene introdotto nel decreto stadi uno potrebbe dire che ci azzecca il taser con il decreto stadi fu un emendamento presentato nel decreto stadi nel 2014 che diede avvio alla sperimentazione tutte le cabine di regia interforze che sono state create proprio per delineare le linee guida tecnico operative sia per la sperimentazione che per l'addestramento perché voglio ricordare io sono stato a Nettuno dove alla scuola di Nettuno dove la formazione ha avuto luogo tutte le linee guida tecnico operative interforze quindi fatte tra le tre forze di polizia che oggi utilizzano il taser polizia carabinieri guardia di finanza tutti questi incontri sono stati fatti con la presenza del ministero della salute perché con la presenza del ministero della salute proprio per far sì che tutte le raccomandazioni i suggerimenti dell'incidenza della scossa elettrica da un punto di vista sanitario medico potessero evitare di creare appunto disagi e problemi quindi credo che questo sia un elemento assolutamente importante a maggio la sperimentazione del taser o meglio l'utilizzo del taser dopo la sperimentazione verrà sostanzialmente reso disponibile su tutto il territorio nazionale anche per le specialità della polizia quindi pensiamo ad esempio alla stradale piuttosto che a tutte le specialità della polizia che oggi rappresentano il fiore all'occhiello delle nostre forze di polizia l'utilizzo del taser verrà accompagnato cosa che oggi avviene già per i reparti mobile anche con l'utilizzo delle body cam quindi con le videocamerine che vengono messe sulle divise proprio per garantire e per certificare in maniera trasparente e inconfutabile la correttezza e la professionalità delle forze di polizia proprio per evitare che le forze dell'ordine possano essere chiamate a dover giustificare magari in maniera anche impropria di comportamenti assolutamente leciti che però possono anche prestarsi a delle strumentalizzazioni le telecamere da un lato il taser dall'altro lato rappresentano secondo me degli strumenti che coniugano diciamo così il materiale umano al materiale tecnologico e sono quegli elementi secondo me che riescono a far fare il salto di qualità alle nostre forze dell'ordine oggi indispensabili la sfida che noi abbiamo che la politica è quella dell'implementazione del taser anche per quanto riguarda le polizie locali io sono contento lo dico che anche il comune di Milano dopo una prima bocciatura nel 2019 il consiglio comunale di Milano abbia votato favorevolmente alla sperimentazione del taser previsto dall'articolo 19 di un decreto a cui io ho contribuito a scrivere non so se è un bene non so se è un male però il decreto legge 113 del 2018 convertito poi in legge nel 132 del 2018 l'articolo 19 prevede la possibilità nei comuni capoluogo e nei comuni sopra i 100.000 abitanti di poter utilizzare il taser anche a beneficio delle polizie locali e credo che sia indispensabile proprio per quello che dicevo inizialmente cioè la polizia locale di oggi ha un ruolo e avrà sempre di più ruolo e quindi io reputo assolutamente positivo il fatto che il comune di Milano e tutte le altre amministrazioni vadano nella direzione di implementare il corpo delle polizie locali credo che anche la polizia locale e non i vigili urbani come vengono impropriamente definiti ma la polizia locale che non è la quinta polizia di stato ovviamente ma è polizia locale possa avere il taser come strumento di tutela e di protezione l'altra sfida e poi dico e poi chiudo è quello di verificare siccome c'è un'altra polizia importante nel nostro paese spesso dimenticata spesso abbandonata spesso considerata polizia di serie C non per me che è la polizia penitenziaria che svolge un ruolo delicatissimo in un ambiente complicato in un ambiente chiuso e quindi che non è una piazza è ovviamente la possibilità di valutare che anche per la polizia locale è l'utilizzo del taser all'interno di un contesto di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari che ovviamente andrà ripensato Assessore proprio per questo percorso che è stato illustrato oggi abbiamo delle condizioni che sia di evoluzione del tema della sicurezza urbana e quindi del contributo che le polizie locali danno alla sicurezza urbana e quindi alcune attività che rientrano nel quadro e grazie al percorso che è stato fatto in questi anni un percorso che giustamente secondo me si è svolto in Polizia Carabinieri Guardi di Finanza in un ambito che giustamente è stato illustrato è stato circoscritto identificato con tutte le tutele le attenzioni necessarie oggi crediamo siamo nelle condizioni di poter capire come iniziare questo percorso anche nelle polizie locali nell'ambito di quel ragionamento che facevamo prima nel momento in cui Polizia Locale di Milano come appunto di altre grandi città ha un ruolo nella sicurezza urbana un ruolo coordinato che non vuol dire che fa tutta la sicurezza ma fa alcune azioni alcune attività specifiche all'interno il dotare anche la polizia locale di questo strumento lo riteniamo opportuno a valle appunto di una sperimentazione già attuata quindi una scelta e un percorso non breve ma giustamente approfondito e con tutte le cautele noi acquisiremo chiaramente tutte le indicazioni di questo lavoro fatto dalle forze dell'ordine e cercheremo di capire con i risultati di questo come può essere utile nell'ambito della polizia locale per quello che è proprio una discussione che mi ha visto partecipare in consiglio comunale io ho sottolineato e ho insistito prima di dare parere positivo all'ordine del giorno alla mozione chiedo scusa di modificare di inserire l'aspetto delle modalità e della valutazione delle modalità proprio perché vogliamo prendere l'esito del lavoro fatto nelle forze dell'ordine capire da questo esito come dove e quando utilizzarlo nella polizia locale ecco le chiede brevemente ma per esempio lei dove lo vede che può essere utilizzato siccome non è un'opinione politica ma è un'opinione tecnica noi proprio conclusa la fase sperimentale forze dell'ordine abbiamo dato dà un'indicazione al nostro comando di analizzare con la sperimentazione e capire con la riorganizzazione che aveva nato la polizia locale che vuol dire una polizia locale che vuole aumentare le pattuglie in presenza di giorno di sera di notte per dare il proprio contributo alla polizia locale come incrociare questi due aspetti e quindi dotare chi svolge determinati compiti per il quale è stato visto positivo in polizia di stato e carabinieri riguardi finanza allora metterlo a disposizione previo chiaramente poi l'addestramento tutti questi aspetti ma la prima operazione a fare è vedere le considerazioni di utilità emerse nel percorso di polizia di carabinieri riguardi finanza connetterlo con la riorganizzazione nostra che sta aumentando il numero di agenti che sono in strada che sono in pattuglia che lavorano alla sera nel controllo del territorio come poter avere anche questo ulteriore strumento che può dare efficace nell'azione preventiva per cui l'ambito è questo chiaramente vogliamo approfondire abbiamo chiesto al nostro comando di approfondire l'esito di quella sperimentazione perché non si inventa niente e noi non abbiamo una posizione per cui secondo noi è lì vogliamo capire dove è stato utile e utilizzarlo nella nostra riorganizzazione soprattutto pensiamo da quello che ad oggi abbiamo potuto vedere soprattutto in quella fase di controllo del territorio specifico e in alcune situazioni dove le tensioni sono notevoli baby gang non lo so le baby gang se sono il momento più adatto vogliamo ripeto vedere l'esigenza dell'esito di una sperimentazione fatta probabilmente nelle situazioni dove appunto c'è più bisogno di avere una deterrenza fatta sullo strumento in cui gli strumenti attuali che la polizia usa lo spolagente lo spray peperoncino che è utile che abbiamo ad esempio quello noi l'abbiamo messo a disposizione tutti i vigili di quartiere eccetera probabilmente i vigili di quartiere può usare meglio il spray peperoncino piuttosto che appunto il teser mentre invece le pattuglie che fanno presidio del territorio probabilmente non hanno più bisogno ma ripeto c'è bisogno la politica dice io devo dotare i nostri uomini degli strumenti migliori per raggiungere l'obiettivo che è un presidio del territorio maggiore è un'azione di prevenzione e deterrenza il come devo farlo incrociando chi ci ha lavorato e chi mi dà le indicazioni precise dell'utilità altrimenti farei solo ideologia e non darei un serio contributo a chi lavora ci sarebbe troppe cose da dire ci abbiamo il tempo proprio stringatissimo se posso soltanto essere utile sul taser e sulle manifestazioni di volontà da parte delle amministrazioni comunali Milano Roma ma tante altre hanno manifestato la volontà politica di andare nella direzione di utilizzare il taser e quindi di applicare una norma del decreto sicurezza 1 giustamente l'assessore diceva incassiamo la sperimentazione e quindi gli effetti e io dico oggi assolutamente positivi della sperimentazione che si fanno sulle forze di polizia a ordinamento statale io dico di più noi dobbiamo incassare e questo lo dico da rappresentante del governo il ministero dell'interno ha inviato alla presidenza del consiglio le linee guida tecnico-operative sulla sperimentazione del taser per le polizie locali la presidenza del consiglio mi auguro sdogani nel più rapido tempo possibile queste linee guida che devono andare nella conferenza unificata stato città autonomie una volta sdoganate le linee guida tecnico-operative dalla conferenza unificata le amministrazioni locali sei mesi di sperimentazione modifica del regolamento comunale per la previsione del taser come strumentazione in dotazione delle forze dell'ordine e a quel punto lì ovviamente la manifestazione di indirizzo politico espressa dal consiglio comunale se l'amministrazione locale vuole applicarlo ci sono tutte le condizioni per poterlo fare io incasso positivamente oggi l'ottimo utilizzo del taser anzi io dico lo straordinario utilizzo del taser sino ad oggi sulle polizie statali e la manifestazione di volontà da parte di tante amministrazioni che magari in passato avevano espresso un giudizio diciamo così di indirizzo non favorevole all'utilità e all'utilizzabilità del taser anche sulle polizie locali è un ravvedimento e la possibilità di poterlo utilizzare ripeto come strumento di difesa non di offesa di sicurezza e non di violenza ma soprattutto come uno strumento di deterrenza a tutela dell'incolumità delle nostre forze dell'ordine anche locali Dottor Fazzini voi avete tutta una serie di tecnologie un progetto pilota sempre in collaborazione con l'amministrazione ce ne vuole parlare? Sì certo il progetto si chiama Safe City ed è un progetto nel quale coniughiamo le esigenze di sicurezza partecipata di sicurezza percepita con quelle che sono le tecnologie che oggi abbiamo già implementato in diversi contesti industriali bancari e pubblici ovviamente e questa soluzione serve sostanzialmente a sfruttare l'intelligenza dei cittadini nel rilevare determinate situazioni e poterle razionalizzare ottimizzare e soprattutto analizzarle all'interno di diciamo matrici di rischio di elaborazione dei dati che poi vengono date alla pubblica amministrazione per poter intraprendere quelle che sono delle azioni preventive proattive per riuscire a individuare proprio come diceva l'assessore quei contesti in cui è maggiore magari la sensibilità del cittadino è maggiore diciamo l'incidenza di un dato fenomeno che può essere un fenomeno verticalizzato come può essere appunto quello del bullismo delle baby gang o altri fenomeni similari e quindi sfruttare meglio quelle che sono le risorse la polizia locale la polizia di stato le risorse a protezione del territorio a protezione dei cittadini ovviamente questo è più necessario ecco ecco questa è un'app che raccoglie le segnalazioni e le incrocia da parte dei cittadini e non è una richiesta di intervento assolutamente no ma è proprio una trasmissione di segnalazioni alla pubblica amministrazione è già operativo da qualche parte sì sì è già operativo in frullivenza Giulia e ovviamente prima si parlava di mille occhi sulla città di telecamere intelligenza artificiale applicata alle telecamere ma quale miglior intelligenza è a disposizione di tutti noi se non proprio l'occhio del cittadino che rileva un dato fenomeno e che può essere messo a disposizione ovviamente della pubblica amministrazione senza ovviamente costituire una richiesta di intervento ma quasi la stregua di un'indagine diciamo demoscopica che è in grado di raccogliere informazioni e ovviamente come dicevamo prima classificarle quindi le informazioni soprattutto se applicate poi a modelli previsionali come quelli di machine learning e intelligenza artificiale devono essere informazioni in qualche modo classificate arricchite e valutate per poter poi essere effettivamente utili per come strumento in più da aggiungere ovviamente alle tecnologie alle procedure e alle nuove diciamo soluzioni che si possono implementare oggi per orientare meglio quella che è la sensibilità della pubblica amministrazione nelle quelle che è un contesto complesso come sicuramente Milano poi ha maggior ragione un contesto dinamico fluido dove i fenomeni sono vari e mutevoli anche in tempi molto rapidi grazie questo mi permetto di aggiungere un aspetto abbiamo proprio il tempo contatissimo gli strumenti sono fondamentali se no mi linciano io esamino le 70-90 segnalazioni che ci arrivano la settimana in assessorato per dire i numeri sono significativi dobbiamo lavorare perché questo lo chiedo a tutti questo sistema non sostituisca le denunce cioè attenzione perché oggi sempre più spesso lo vedo nei rapporti con i cittadini ah sì l'ho messo su facebook l'ho scritto su instagram eccetera ha denunciato no però attenzione perché noi dobbiamo fare in modo che questo grande lavoro anche che aiuta per noi è fondamentale di avere la percezione del cittadino di quello che accade ma che poi non vada a dire al cittadino loro non serve più chiamare il 112 non serve più fare denuncia dobbiamo ma lo dico perché lo vedo molto positivo dobbiamo aiutare a fare in modo che ci sia questo passaggio comunque chiamare il 112 e comunque fare le denunce perché deve aiutarci a tutto il sistema che era quello prima parliamo invece ci trasportiamo nella cyber security dottor Mognato il 30% anche di reati in più nell'ultimo nell'ultimo anno quali sono gli attacchi oggi di cui si parla la guerra tra Russia e Ucraina ci ha fatto vedere parecchie cose sì è un contesto completamente diverso dove chiaramente non esistono più le regole fisiche dello spazio e del tempo per cui i fenomeni purtroppo nel momento in cui accadono sono già dei danni sono già degli impatti rilevanti sulle infrastrutture o sulle informazioni non c'è diciamo il tempo di intercettare il missile mentre vola quando lo scopriamo è già dentro a casa nostra in questo contesto esistono svariati tipologie di attacchi e soprattutto gli attacchi possono essere classificati non solo dal punto di vista tecnico per complessità e per tecnologie che vengono utilizzate ma anche per scopo quindi qual è diciamo l'obiettivo degli attaccanti in questo caso io direi che esistono due macro categorie ci sono gli attacchi in un certo senso casuali e quelli invece targettizzati quelli casuali sono quelli in cui possiamo incorrere in qualsiasi momento tutti noi tutte le aziende le organizzazioni pubbliche e private poiché utilizziamo delle infrastrutture diciamo tra virgolette pubbliche che sono internet quindi la grande rete di comunicazione che purtroppo è pervasa di diciamo tecnologie non solo positive ma anche negative ci sono tanti malware che girano in maniera abbastanza indiscriminata in questo caso veramente si tratta lasciatemi dire della sforduna di incontrare il rapinatore fuori casa quindi può succedere e in quel caso mi può andare bene perché gli lascio i portafogli ho pagato il mio riscatto e sono salvo oppure prendo una cordellata e il mio sistema è morto e non riesco a salvarmi poi ci sono invece gli attacchi targettizzati che sono ben più complessi e sono quelli che sono perpetrati da organizzazioni addirittura nazioni contro infrastrutture critiche o aziende che hanno lo scopo a volte semplicemente di spionaggio a volte di sabotaggio e nell'aumento che abbiamo visto nell'ultimo periodo di attacchi anche verso le infrastrutture critiche e le aziende italiane dobbiamo registrare diciamo attacchi sia casuali ma soprattutto attacchi targettizzati ne abbiamo avuto diciamo delle evidenze abbastanza significative come quello all'attacco alla regione Lazio piuttosto che agli ospedali all'aslo di Padova piuttosto che ad altri ospedali e altre infrastrutture in un certo senso tra l'altro anche il conflitto tra Ucraina e diciamo Russia ha evidenziato un pochino la capacità di queste organizzazioni di belligerare non solo fisicamente ma anche grazie diciamo alla rete tra l'altro non tutti forse ce lo ricordiamo ma nel 2014 la Russia aveva attaccato da punto di vista cyber l'Ucraina come ritorsione ad un attacco fisico e questo è estremamente secondo me interessante gli ucraini avevano avevano appena perso diciamo l'Ucraina aveva appena perso la Crimea è stata conquistata la Crimea che però essendo un istmo chiaramente è collegata fisicamente per l'erogazione di acqua ed energia direttamente all'Ucraina per come dire ritorsione gli ucraini hanno abbattuto un pilone di alta tensione mettendo in blackout completamente la Crimea e un mese dopo la Russia ha risposto con un attacco cyber ha spento tre centrali elettriche e ha causato lo stesso danno fisico ecco dal punto di vista diciamo della possibili minacce nei confronti di infrastrutture critiche e di città o come dire organizzazioni locali io vedo anche come dire la possibilità di attacchi di tipo cyber non lo vedo io lo vede l'autorità nazionale di cyber security che è stata costituita nel 2021 e che ha proprio l'obiettivo di coordinare diciamo un po' tutte le organizzazioni sia pubbliche che private in particolare quelle del perimetro di sicurezza nazionale nell'ottica di difendere e di garantire diciamo i servizi minimi essenziali delle nostre realtà e delle nostre città grazie mille ringrazio tutti gli ospiti e buonasera grazie grazie a tutti grazie a tutti